Cosa pensi della moda estera? Non so, più avanti. No, allora, sono una fervida sostenitrice del Made in Italy perché come noi a livello proprio di artigianato non c'è niente. Purtroppo, a parte quei pochi stilisti che sono rimasti che tra l'altro lavorano più come prima perché Valentino lavora più, sono tutti grandi e non esiste più lo stilista che disegna e che mette il suo nome ma magari qualcun altro che disegna per lui e tu neanche sai chi è che l'ha disegnato quell'abito. Infatti indossi quel capo e pensi che sia di Pinco Pallino invece magari... Lui neanche l'ha visto magari. E poi la nostra moda insomma, ecco ti ripeto, a parte Dolce Gabbana che hanno la loro scia, a parte i soliti noti o a parte qualche ragazzo che si sta facendo strada tipo a me piace tanto Fausto Puglisi o Anthony Vaccarello, però all'estero soprattutto gli olandesi e i danesi si stanno imponendo tantissimo poi non solo sulle sfilate ma anche sul pret-à-porter vedo anche a negozio cerchi, faccio continuamente ricerca siamo stati al Bad & Butter a Berlino, al White a Milano Sono stato anche al Bad & Butter, era un'edizione anni fa Piaciuto? Sì, bellissimo, a Barcellona sono stato Ah io sono stato invece proprio a Berlino, a Barcellona mi manca In 2006-2007 sono il ricordo, al tempo, ci sono andato con Matteo di Via del Corso e ho detto andiamo lì E' interessante Bellissimo, manifestazione molto molto interessante Interessantissimo Apriresti mai una tua firma? Eh, l'idea era quella Allora ti dico, il negozio è stata un po' una conseguenza Del tipo? Del fatto che avendo studiato moda avrei voluto tanto lavorare in una ditta in un'azienda di moda per proporre un po' le mie idee Questo non è accaduto, mi sono ritrovata comunque con la possibilità e la fortuna di poter aprire un negozio e così ho fatto e in futuro spero di poter avere una linea mia anche perchè poi diciamo che la gavetta l'ho fatta quindi so anche ovviamente tu magari hai in mente delle idee però queste cose devono piacere anche alle altre persone e ora la consapevolezza di quello che può piacere ce l'ho Certo Quanto secondo te quanto tempo serve per essere diciamo altezza e brutto però capaci di servire il pubblico nel tuo lavoro? Ci vuole ci vuole perchè io quando ho aperto già avevo fatto questo lavoro però mi sono resa conto che ancora devo imparare tanto non si finisce mai di imparare però ancora quasi che non mi sento all'altezza in tante situazioni in tante situazioni soprattutto quando hai delle clienti dico comunque sono più esigenti e non si impara mai come su ogni lavoro comunque Ti leggo un pensiero che ho visto che ho letto oggi tra i popoli nudi l'immoralità è assai meno diffusa che tra quelli vestiti L'uomo è inestimabile come valore umano Certo che è inestimabile però la frase di prima è verissima Sì Spesso in giro non c'è moralità in come si vestono le persone ma ti ripeto tornando al discorso di prima il vestito è lo specchio di te è inutile che diciamo l'abito non fa il monaco un po' lo fa perché quello che vuoi è magari non riesci ad essere una cosa e attraverso il tuo abito attraverso il tuo outfit provi a essere quella cosa no? E' bene però che ci sia anche una tara o limite sul vestiario cioè tante volte si vedono persone che hanno un'età e si vestono da un'età contosalmente diversa che intendo un quarantenne cinquantenne uomo donna che si veste da bambino mi segui? Ti seguo su questo però non sono d'accordissimo dai tipo? Perchè io vorrei continuare a vestirmi un po' come mi pare la nonna con le converse Sì con le converse i sentimenti parlando di morale i sentimenti nel lavoro ripagano? Sì sempre qualsiasi cosa fai col cuore verrà ripagata prima o poi nel lavoro ripagano perché te la mattina ti svegli e dici vada a lavorare e sei felice e vivi felice e non è una fortuna per tutti perchè mi rendo conto che tante persone intorno a me purtroppo devono devi lavorare per vivere e non sempre riesci a trovare il lavoro della tua vita certo e visto che ti occupa quelle 9-10 ore al giorno ti deve piacere e è una gran fortuna parlando di amore abbiamo parlato di un libro che hai e che ho l'amore salva al giorno e anche nel lavoro senza amore non c'è è anche vero che anche se tu non fai il lavoro della tua vita se ci metti impegno vedrai che le ore passano più veloci e vedrai che vai a lavorare più ripagato però purtroppo oggi giorno è tutto troppo frenetico e magari facciamo passare il tempo a lamentarci quando in realtà basterebbe un sorriso e la giornata vola sì credi più nelle boutique o nelle catene di distribuzione? mi chiedi nelle boutique? no te l'ho chiaro anche se lo so però te l'ho chiaro nel senso se tante volte magari potresti dirmi guarda vorrei fare una catena di distribuzione Daphne tutta oppure vorrei avere una chicca che Daphne negozio a Gubbio mi segui mi piacerebbe aprire quei 15-16 negozi sparsi per tutto il mondo no? però se parliamo di catene come le solite senza fare nomi che vediamo in tutti i centri commerciali non dico che non ci compro è che ci vado anche spesso insomma però finisce il rapporto finisce tutto ti trovi lì dentro a dover comprare da solo sono due tipologie di shopping diverso vedo che anche da me in una boutique magari tu vai se hai un'occasione ti compri una cosina magari coi soldi della nonna oppure coi soldi che ti sei sudato la sera prima lavorando in un bar nelle catene ti vesti perchè ti devi coprire quanto conta per una commessa che lavora il sorriso di chi serve? tutto è importantissimo ma ovunque vai in un bar in un ristorante il sorriso è tutto ma come ti dicevo prima il modo di affrontare le cose mi rende tutto diverso poi va bene in un luogo pubblico credo che al di la dell'amore o non amore per quello che fai è quasi dobbio il sorriso ti piace l'idea di un paragone interpretare il pensiero ad un centro estetico del bestiario? si nel tuo lavoro? si in qualche modo lo è? lo è perchè è un modo per sentirti più bella fare shopping poi per una donna proprio è... è un ottimo anti stress lo shopping si per le ragazze si ma anche guarda allora io di solito quando uno entra chiedo sempre ciao dai un'occhiatina si non vengo mai la a disturbare perchè sono proprio una di quelle che quando vado nei negozi non voglio sentire nessuno che mi parla dietro voglio solo sentire la musica e quindi da sempre io se tu mi chiedi niente io non ti chiedo niente magari facciamo due chiacchiere su altri argomenti però non ti sto a disturbare e magari vedo che parecchie ragazze entrano più volentieri proprio per questo motivo perchè non le presso perchè magari riescono a stare lì mezz'ora a pensare se comprarlo o no senza che io sono lì a dire prendilo vai e in quella mezz'ora ti hai pensato a te stesso è fastidioso secondo te il commerciante o imprenditore che fa questo lavoro che opprime il cliente per vendere? è fastidioso però è anche vero che chi viene dalla vecchia scuola funzionava così i nostri genitori o comunque chi ha l'attività da tanti anni funzionava così insegnavano così e hanno continuato a fare così noi ragazzi anche per via delle catene siamo più abituati e anche i maschi siamo più abituati ad acquistare da soli vai da Ikea compri da solo vai al supermercato compri da solo una volta andavi nella bottega e dicevi mi serve un chilo di pane mi serve il prosciutto adesso facciamo un po' più self più self sì e influisce in qualche modo no in qualche modo influisce o quanto influisce a tuo avviso la scelta che offre internet sull'abbigliamento tanto anche io compro su internet tagliamo nessuno sa allora io compro online perché avendo pochissimo tempo per uscire sono sempre lì dentro quindi è diventato molto comodo per me acquistare online compro le scarpe perché non tengo scarpe in negozio quindi qualche scarpa l'acquisto online e per ora non compro altro trucchi cose di per il corpo niente ho comprato mobile online ecco però influisce tanto perché puoi trovare ovunque tu vai su google e trovi il mondo e tanto il mondo io sto facendo un sito per Daphne per lo shop online ok quindi per Daphne farò online yes hai un sito internet o link? ancora no è in costruzione praticamente è finito dovrò caricare le foto e già il carrello è funzionante come si chiamerà? Daphne Clothing Lab www.daphneclothinglab.it qual è il significato preciso di questo termine? Daphne si me l'ha spiegato ma Clothing Lab è Clothing Alvestiario si laboratorio al lab si inizialmente quando ho aperto facevo anche dei lavoretti io ah si? si tipo modificavo ho venduto anche qualche pezzo mio andando avanti il tempo si è ridotto e se devo fare delle cose ad esempio modifico le All Star quello si però l'idea di laboratorio di moda è rimasta anche se andando avanti però è sempre più Daphne credi comunque nella personalizzazione dell'abito? adesso si da sempre però adesso trovi talmente tante copie in giro che avere una cosa tutta tua è bellissimo è bellissimo sei disposto a pagare di più per una cosa tutta tua certo allora cara siamo giunti alla fine di questa puntata perché abbiamo registrato quasi mezz'ora è volata grazie io ti ringrazio moltissimo grazie a te spero che sia stata bene un bacio verrò grazie mille da te che te l'ho promesso giusto? si allora ricordo tutti il canale youtube che è youtube.com slash depurparler tenete al vestiario, tenete la vita, tenete i valori e alla buona indola di tutti buona vita a tutti ciao ciao